ma ora concentratevi un attimo di silenzio perché c'è la perla della settimana io l'ho semplicemente detto che più siamo di rosso blu meno ci saranno nella vita dei tifosi de Roviedo perciò se più noi saremo più l'equilibrio sarà almeno in tribuna sarà qualcosa chiaro che questo esodo della tiposeria nostra ti fa capire molte cose quanto sarà triste se devi uscire insomma la gioia invece che proveremo se avremo la possibilità di andare avanti bocca al lupo grazie grazie a Svaldo ma ora c'è la pubblicità chi cambia canale sacripante ci risentiamo tra pochissimo